Una macchina operativa complessa per una problematica complessa che riguarda la sicurezza di un territorio da tenere sotto controllo per il rischio idrogeologico. Il comune di Chieti in sinergia con le associazioni di protezione civile regionale mette nero su bianco, riorganizzando il COC, centro operativo comunale e firmando anche la prima ordinanza sul dissesto idrogeologico. Il sindaco Diego Ferrara indica i due principi su cui si muoverà l'amministrazione. La consapevolezza e quindi l'informazione della cittadinanza su tutto quello che di macroscopico interessa il territorio. Secondo, la prevenzione attraverso il monitoraggio attento fatto non solo dall'amministrazione comunale e dalla propria protezione civile ma anche dall'aiuto strumentale ed economico da parte della protezione civile regionale su tutto quello che si muove intorno al nostro territorio. Implementeremo, aumenteremo questo controllo alla domanda giustamente rivoltami come attraverso soprattutto strumenti tecnici, inclinometri nuovi e aumentati di numero, impedenzometri automatizzati, droni riprese da satelliti e un team tecnico formato all'interno dell'amministrazione che agirà principalmente con lo scopo del monitoraggio. Tra le priorità il monitoraggio delle criticità che interessano il quartiere Santa Maria come conferma il funzionario tecnico dei lavori pubblici Tommaso Colella. Abbiamo perimetrato un'area nella quale risiedono circa 2.000 cittadini con un centinaio di soggetti fragili e all'interno di quest'area purtroppo diversi edifici sono stati già sgomberati o evacuati volontariamente dalle persone per dissesti strutturali legati al rischio idrogeologico. Questa operazione di sicurezza che a 360 gradi riguarda tutto il territorio comunale? Sì, è proprio quello il nostro obiettivo, quindi intanto approfondire meglio questa situazione complessa che riguarda la zona Santa Maria, però avere gli strumenti e finanziamenti per poter agire in maniera più ampia, quindi dico alcune zone, sicuramente Sant'Anna oppure Colle Marconi ma anche altre che hanno bisogno di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.